Sorelle e fratelli, ci siamo riuniti con Gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Pasquale e Luana intendono formare la loro famiglia. Questa è una tappa molto, molto importante della vostra vita. Adesso inizia una nuova vita, una vita insieme. Finché morte non vi separi, tra poco questo lo promettete davanti a te. Un matrimonio deve essere vissuto nella benezza, nella gioia. Se voi costruite il vostro matrimonio su Gesù, il vostro matrimonio sarà indistruttibile. Pasquale e Luana siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in che la libertà è consapevole del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti seguendo la via del matrimonio ad amare e non darvi null'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad amare e non darvi null'altro per tutta la vita, e non darvi null'altro per tutta la vita, è un'acquietta che ci si può fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.